Cheryl Tweedy Cole è la donna più sexy del mondo secondo la rivista britannica FHM, che ogni anno stila la classifica delle signore più avvenenti del pianeta sulla base delle preferenze indicate dai lettori. Ma chi è la regina del sondaggio, giudicato molto prestigioso nel panorama del jet set internazionale? Cheryl è la moglie del giocatore del Chelsea, Ashley Cole, nonché ballerina cantante delle Girls Loud e attuale giudice dell'edizione inglese di X-Factor. Occhi nocciole fisico da pin-up, la bella wag, come si chiamano in gergo le mogli e fidanzate dei calciatori d'oltremanica, ha battuto la concorrenza dell'attrice Megan Fox, che si era aggiudicata il prestigioso titolo nel 2008 e che quest'anno si deve accontentare della seconda piazza. Terza è un'altra diva di Hollywood, Jessica Alba. Appena ai piedi del podio, a sorpresa, la rediviva Britney Spears, che supera in volata un'altra beniamina del pubblico inglese, la prosperosa modella Kelly Hazel. Sesto posto per la modella brasiliana Adriana Lima, mentre la settima è l'attrice canadese Elisha Cuthbert, nota per il lungo fidanzamento con l'assistente personale di Justin Timberlake.